Con Cervet abbiamo individuato 5.000 PMI ad elevato potenziale. Qual è il ruolo di Borsa Italiana, di Elite, nel supportare queste PMI, da un lato sul tema della trasparenza e dall'altro per aiutarle a giocare questa partita? Allora, Borsa Italiana, e in questo includo quindi anche Elite, perché fa parte di Borsa Italiana Elite, in questi anni hanno creato una serie di strumenti per avvicinarsi all'apertura del capitale con una logica progressiva. Elite in particolare prepara le società a una forma di conversazione con il mondo degli investitori, indipendentemente dal fatto che questa poi si traduca in una quotazione, in questo quindi è rimasta neutrale, e Borsa Italiana invece continuano a fare il suo mestiere facendolo magari meglio di prima, avendo articolato una serie di mercati e consentono alle imprese di scegliere sulla base delle proprie dimensioni, aspettative, volontà di esposizione nei confronti di investitori domestici e internazionali e quindi credo che oggi Borsa Italiana, di nuovo come gruppo Elite insieme, sia una formula forse tra le più complete al mondo per offrire a PMI, soprattutto di tipo familiare, un percorso agevolato. Credo che questo poi sia molto di attualità perché con i contesti che stiamo vivendo in queste settimane la capacità di un'impresa di emanciparsi da una forma tradizionale di finanziamento e rimanere flessibilmente aperta ad altre opportunità diventa una variabile strategica, non è più un lusso a cui pensare, diventa in alcuni casi potenzialmente anche la premessa per la crescita se non per la sopravvivenza. Grazie.